Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine. Andiamo a vedere cosa accadrà verso la fine della prossima settimana, periodo 23-25 ottobre. Guardate, con ogni probabilità nelle regioni meridionali avremo condizioni meteorologiche buone, anche con ampie zone di sereno e temperature addirittura miti sopra le medie del periodo. Invece spostandoci verso il centro nord, ma in particolare verso le regioni settentrionali, ecco le perturbazioni atlantiche si faranno in qualche modo sentire. Non è previsto l'arrivo di aria particolarmente fredda, però appunto il nord avrà tempo un po' più variabile, con un po' più di nuvole, anche qualche più vasca e temperature di conseguenza certo un po' più basse rispetto alle regioni meridionali, ma ripeto, non dovremo avere periodi particolarmente freddi. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio se le cose andranno davvero così, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.